Mi hanno pure chiesto di allontanarmi dal paese, per il mio bene, eppure per quello degli altri, hanno detto. È che io non sono mai riuscita a trattenermi, fin da bambina sono sempre stata molto sincera, pure un poco troppo forse. Buongiorno, i tre compari. Allora? Io lo so che eravate insieme. Guarda, arrivando, sono messi d'accordo. Nessuno parla, tutti zitti, muti. Dove eravate, eh? Io lo so, lo so io. E se quando uno ti fa una domanda, è buona creanza rispondere, o no? Eppure è vero che non sempre la domanda me l'hanno fatta. Io ho visto, ho visto, è stato lui. Perché ci sono solo io che parlo al paese, e gli altri cosa sono? Muti sono. Ciao! 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 Grazie a tutti